Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenute in questo nuovo video. Io sono super emozionata perché sto per parlarvi di un prodotto che secondo me farà scalpore sul web perché è veramente veramente figo. Prima di iniziare a entrare nel vivo di questo video interessantissimo, se non siete ancora iscritti al canale vi farebbe piacere sostenere il mio canale e continuare a vedere video di questo tipo, ovvero video su prodotti nuovissimi in anteprima, vi invito ad iscrivervi, entrare a far parte di questa meravigliosa community e lasciare magari un bel pollicino in su per farmi capire se questo tipo di video vi piacciono e se sono interessanti per voi. Ed ora iniziamo e stiamo parlando della nuovissima Born to Run di Urban Decay, la nuovissima palettina pensata per l'estate e per tutte le viaggiatrici. Allora, iniziamo subito con la descrizione del prodotto. Innanzitutto io l'ho acquistata sul sito di Urban Decay ad un prezzo di 49€, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Lo vendono in anteprima rispetto al lancio da Sephora che avverrà verso agosto, mi sembra i primi di agosto. Questo mi è sembrato di captare nelle stories relative ai press day, ai quali io purtroppo non ho ancora avuto modo di partecipare, appunto perché sono su invito esclusivo da parte del team di Sephora. Se per caso sei fra mi stessa ascoltando, mi farebbe molto piacere partecipare. Anyway, whatever, forever, andiamo avanti col prodotto. Dunque questo è il pack esterno, bellissimo, nero opaco in cartone, con il logo Urban Decay in rilievo e all'interno del logo viene riportata la grafica della palette poi effettiva. Dietro, come tutte le palette di Urban Decay, abbiamo tutti gli ombretti riprodotti appunto sul pack secondario, con questa finitura lucida che ci permette anche un po' di capire i vari finish della palette. Secondo me questo è un packaging veramente, veramente molto bello. Allora, la palette ha un pao di 24 mesi, sto leggendo proprio qui, e al suo interno contiene 21 cialde con 0,80 grammi di prodotto per cialda, quindi è anche abbastanza direi. 24 mesi per la scadenza di un prodotto sono davvero tanti, quindi rendetevi conto che questa palette potete utilizzarla per due anni. E il prezzo è notevolmente, a mio avviso, conveniente rispetto alle naked tradizionali, che invece contengono mi sembra 12 ombretti, non vorrei sbagliarmi nel caso mi corrego qui, e costano esattamente uguale. Questa ne contiene 21, quindi se vogliamo fare una divisione per ombretto, verrebbe circa 2,30 euro a cialda, però ovviamente non è in questo modo che si valuta il prezzo di un prodotto, perché dobbiamo anche considerare il pack. Il pack tra l'altro è bellissimo, è abbastanza pesante come palette, perché quando la tenete in mano la sentite bella pesantina. È un pack completamente in plastica, con questa stampa bellissima, riportante delle postcards, se così vogliamo dire, di vari posti del mondo, e che riprendono il concetto di questa palette, che è stata pensata da Urban Decay per tutte le ragazze intineranti, per tutte le ragazze che viaggiano e che vogliono portarsi una sola palette, con la quale fare di tutto. In effetti devo dire che la scelta cromatica degli ombretti proposti all'interno della palette è davvero molto varia. Personalmente non la trovo completissima, però è molto varia e vi permette di fare moltissimi, moltissimi look. Dunque, come potete già aver avuto modo di notare, ecco qui uno specchio grandissimo, con il quale potete tranquillamente specchiarvi e non solo, potete proprio truccarvi, perché è enorme ed è veramente, veramente molto fedele. Insomma, uno specchio di alta, alta qualità, che prende praticamente tutta la parte superiore della palette. Si piega, come potete vedere, da sola, senza dover sforzare, si piega tranquillamente a metà. E queste sono le cialde degli ombretti proposti. Come vedete abbiamo una buona alternanza caldo-freddo. A mio avviso abbiamo anche dell'ottima scelta cromatica per quanto riguarda le shades e per quanto riguarda l'inclusività. Secondo me è una palette che va bene sia per le pelli molto chiare, sia per le pelli scure. Ho qualche dubbio per le pelli molto scure, ma per le pelli scure secondo me ci siamo abbastanza. Ovviamente, come potrete intuire, il look che indosso l'ho realizzato utilizzando solamente lei e devo dire che sono riuscita a non dover usare nessun'altra palette insieme, perché appunto è molto completa. E se vi va di vedere come ho realizzato questo Halo Smoky Eyes, vi lascio il link diretto nella i delle informazioni e giù nell'info box, così magari mi dite cosa ne pensate. E se volete riprodurlo, avete appunto il tutorial. I finish proposti in questa palette sono tre, ovvero l'opaco, il metallic e lo sheer. Quindi abbiamo degli ombretti matte che al tocco sono vellutati in un modo pazzesco, sono sfumabilissimi. Poi abbiamo dei colori metallizzati con un riflesso impressionante, come per esempio l'ombretto che indosso al centro della mia palpebra, che è Big Sky ed è veramente veramente formidabile. E poi abbiamo invece dei satinati, come per esempio il colore illuminante che si chiama Breakaway, che è un colore neutro con un leggero sottotono rosa, ma ha una perla, e lo vedete sotto il mio sopracciglio, che riesce a conferire una tridimensionalità anche sotto l'arcata sopraccigliare, senza però risultare troppo, come potrebbe essere un colore troppo luminoso, come per esempio Stranded, che sarebbe secondo me veramente troppo. Realizzando questo trucco mi sono accorta che di Fallout ce ne sono pochissimi. L'unico che mi ha fatto un leggero Fallout è lui, che sarebbe Radio, il blu scuro. Per il resto zero Fallout ragazzi, si sono comportati divinamente e soprattutto una facilità per quanto riguarda la sfumatura impressionante. Hanno però fatto parecchia polvere e gli ombretti opachi durante il prelievo con il pennello dalla palette. Questa è la verità ragazzi, spolverano parecchio, quindi il mio consiglio è quello di prelevare, poi soffiare sulla palette, non è molto igienico, però almeno vi permette di tenerla il più pulita possibile, perché altrimenti vi sporchereste tutto questo bel pack nero opaco di cui è dotata e che fa risaltare tantissimo tra l'altro i colori proposti. Dico che non è completa al 100% perché manca un nero opaco, l'unico nero che abbiamo è questo qua che si chiama Jet, che è un nero con qualche riflessino, però non è un nero bello intenso, come poteva essere Blackout della Naked 2 per esempio, che era un nero veramente bello intenso, e questo potrebbe farne risentire un po' per quanto riguarda gli incarnati scuri, che il nero invece lo sfruttano parecchio rispetto a un incarnato molto chiaro, che comunque lo sfrutta, ma non tanto quanto le pelli più scure ovviamente. Come transition color secondo me ci siamo, come scelta cromatica ci siamo, insomma una palette che vi permette di realizzare dei trucchi più neutri, quindi per l'ufficio, la casa, scuola, lavoro e qualsiasi cosa voi vogliate, o semplicemente un lazy day, quindi una non voglia di truccarsi quel giorno, ha trucchi un po' più impegnativi come quello che sto indossando io adesso, potete fare degli smokey monocromatici, la scelta dei colori metallici è veramente molto bella, potete fare degli smokey eyes completamente opachi, perché avete sia il colore di base, il transition color, e il colore per dare profondità, potete fare veramente di tutto, effettivamente è una palette che io porterei in vacanza, perché è abbastanza completa, l'unica cosa che io ho notato mancare all'interno di questa palette è appunto il nero opaco, perché per il resto ragazzi ci siamo alla grande, tra l'altro i colori più iridescenti, come per esempio Strangered e Blaze, oppure Breakaway per gli incarnati molto 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 chiari, possono persino essere utilizzati come illuminanti, quindi insomma avete vinto al 100% se prendete questa palettina qua. Come dimensioni non è piccolissima, e la riuscite a vedere anche voi, quindi a meno che voi non abbiate una pochette per il viaggio che sia abbastanza grande, non credo che entrerà all'interno della vostra pochette. Facendo un rapidissimo confronto con la Naked It, si può notare che abbiamo un buon 2 cm di differenza per quanto riguarda l'altezza, mentre la larghezza è pressoché simile, c'è qualche millimetro di differenza. Per quanto riguarda però lo spessore, come potete notare, la Naked It è molto più spessa rispetto alla Bore to Run, e questo anche perché la Naked It all'interno ha un pennello, un pennello doppio che potete sfruttare, che sicuramente è un plus per quanto riguarda la palette, perché avete anche il pennello occhi integrato, mentre ovviamente lei non ce l'ha. Però personalmente da Make Up Addicted, da trucatrice ovviamente per lavoro, preferisco decisamente di più avere solo ombretti rispetto a un pennello, perché di pennelli ne ho già tantissimi, quindi fondamentalmente anche quando parto mi faccio la mia trussina dei pennelli. Non ho un reale bisogno effettivo di avere anche il pennello all'interno della palette. Come resa colore, ragazze, payoff pauroso. Hanno veramente un payoff impressionante. Gli swatch fatti col dito, che adesso vi farò vedere, sono veramente incredibili, e si sente proprio al tatto la qualità del prodotto. Facendo un confronto tra la Naked It e la Bore to Run, io credo che abbiano incrementato la qualità degli ombretti all'interno della Bore to Run, rispetto alla Naked It, credo che siano migliorati a livello di formulazione, di sfumabilità, di pigmentazione. Non perdono di pigmentazione anche durante l'applicazione, ovviamente c'è sempre l'accortezza da parte vostra di utilizzare dei pennelli adeguati, a seconda del tipo di pigmentazione che volete ottenere con la polvere, e del tipo di elemento che volete creare sugli occhi, quindi se è una sfumatura, se è un colore molto concentrato al centro della palpebra, lì siete voi a dover scegliere il pennello giusto, perché loro con lo swatch performano davvero benissimo. Le hanno formulati tra l'altro garantendo una ottima durata, quindi io adesso indosserò il makeup e nell'info box vi farò sapere come si sono comportati, tenendo sempre in considerazione il fatto che io uso sempre un primer occhi, non vado mai in giro senza primer occhi, male che va con un correttore, ma mai a palpebra nuda, perché non sarebbe possibile, nessun ombretto pensoreggerebbe a palpebra nuda, dal momento che naturalmente suda tra virgolette e trascina via i pigmenti dalla palpebra, quindi questo è abbastanza ovvio come elemento fondamentale per creare un look che duri tutto il giorno. Io penso di non avere nient'altro da dirvi, sicuramente se non avete una palette così vasta ve la consiglio, ve la consiglio perché in effetti con lei potete fare di tutto, è la classica palette che non vi preclude di dover per forza creare sempre lo stesso look con sempre gli stessi ombretti, ma è una palette che vi dà veramente carta bianca, vi fa, non lo so, sbizzarrire al 100%, quindi secondo me è una palette da avere, per non parlare del fatto che è da collezione, io ho tutte le naked e colleziono le palette di Urban Decay, perché non solo sono preziosissime a livello di prodotto, quindi a livello di concept, a livello di qualità, a livello di tutto, ma anche perché sono una collezionista di makeup, quindi sicuramente non potevo farmela scappare. E basta ragazzi, io spero che questa recensione vi sia stata utile, che vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate della palette, secondo voi ha una scelta cromatica abbastanza vasta, si adatta a più o meno tutte le carnagioni, siete d'accordo con tutto quello che ho detto in questo video? Sono curiosissima di saperlo, quindi se vi va lasciatemi il commento con la vostra impressione qua sotto. Vi ringrazio di cuore per aver seguito il video, e se vi va ci vediamo nel prossimo, un bacione, ciao!